Si chiama Scout Speed ed è un rilevatore di velocità che può coglierci sul fatto anche in maniera dinamica per così dire. A sorprendere gli automobilisti indisciplinati è sì una macchina, in particolare una telecamera appositamente programmata, ma ovviamente alla guida dell'auto che la ospita ci sono gli uomini e in particolare il personale della Polizia Municipale di Francavilla al Mare. Lo Scout Speed è stato inaugurato ieri all'interno delle Gallerie Le Piane e San Silvestro. Il primo step è stato quello appunto di aumentare i controlli, tipo safety car tra noi e la Polstrada, appunto mettersi davanti alle auto per far rispettare la velocità, fare dei controlli all'uscita. E il secondo step è proprio questo dello speed control, cioè di verificare la velocità. Abbiamo già fatto una prima giornata, chiaramente tutte le date sono state pubblicizzate, abbiamo fatto già una prima giornata, abbiamo fatto una trentina di verbali, tenendo conto che comunque non ci sono state grosse criticità, tranne una macchina che andava un po' più veloce. Su 4-5 ore di servizio abbiamo rilevato 30 infrazioni. Questo step porterà, speriamo, un'ulteriore sicurezza e tranquillità all'interno della Galleria, tenendo conto sempre che questa Galleria è la più lunga anche. Nel momento in cui si rispettano i 70 km orari ci si impiega 3 minuti, quindi è inutile dover accelerare, sorpassare, fare violazioni che comporterebbero una riduzione ridicola del tempo di percorrenza. Quindi stiamo valutando soltanto la velocità, anche perché l'attività di controllo dell'assicurazione e della rivista è già un'attività che svolgiamo all'esterno, all'uscita della variante, come in altre zone di Frangavilla al mare, però con la contestazione immediata. I prossimi giorni in cui è previsto il controllo sono 4 febbraio pomeriggio, 8 febbraio mattina, 12, 14 e 18 febbraio pomeriggio e infine 22 febbraio mattina e 26 febbraio pomeriggio. Da precisare che, secondo alcune sentenze recenti, lo scout speed deve essere annunciato, per così dire, agli automobilisti con un sufficiente anticipo e tramite idonea segnalazione stradale.